Buonasera, c'è qualcosa di particolare quando si incontra un titolo come l'Orfeo di Monteverdi, una sorta di magia e di emozione diversa dal solito perché in sostanza con quest'opera nasce una storia lunga quattro secoli e speriamo anche prosegua, quella del melodramma, del teatro in musica, tutto è nato sostanzialmente con l'Orfeo di Claudio Monteverdi nel 1607. Torino ha visto l'opera probabilmente già agli albori, pochi anni dopo la prima di Mantova nel 1610, ci sono documenti che sembrano attestare con molta probabilità l'esecuzione e la rappresentazione dell'Orfeo nel teatro di Corte. Da allora le edizioni di Orfeo sono state molto poche e mi fa piacere dire che è la prima volta che allestiamo quest'opera qui al Teatro Regio. Il Teatro Regio ha avuto nelle sue stagioni un unico Orfeo nel 1996 ma venne realizzato al Carignano nell'ambito anche di Settembre Musica. Quindi per la prima volta lo vediamo nella nostra sala. Altro elemento di interesse è che si tratta di una nuova produzione fatta dal Teatro Regio e che vede il debutto di Alessio Pizzec come regista. Un giovane ma assai rodato regista che promette uno spettacolo molto fresco e molto efficace dal punto di vista registico. Il cast di cantanti e di grandi specialisti del repertorio dirige Antonio Florio che è uno specialista dell'opera barocca ma che debutta in quest'opera. Frequenta maggiormente la produzione napoletana ma nell'intervista che trovate nel programma di sala dichiara appunto di essere al suo debutto. Un altro specialista del repertorio barocco è qui accanto a me di Alessandro Mormile che è il critico del mensile L'Opera e che segue tantissime produzioni e che è il nostro corrispondente da Torino per L'Opera e che sono lieto di riavere qui i nostri microfoni. Restando al programma di sala mi fa piacere dire per il pubblico che assisterà alla prima dell'Orfeo, poco prima alle sei e mezza in sala Caminetto presenteremo un'altra iniziativa editoriale parallela a questa che è un libro pubblicato dal centro studio sul teatro musicale dell'università di Torino e promosso dall'associazione Arianna. è il secondo volume che esce nell'ambito di questa iniziativa attesa a dare strumenti di approfondimento in più al pubblico del teatro e quindi il 13 alle sei e mezza ci sarà questo incontro. L'Opera debutta appunto il 13 fino a mercoledì 21 e mi auguro che possa incontrare la vostra soddisfazione. Grazie Alessandro Mormile per tutti gli aspetti che riguardano la storia di quest'opera e c'è molto da dire. Siamo fortunati oggi anche perché se tutto va bene e le prove terminano in tempo alla fine abbiamo in coda l'intervento di Alessio Pizzec che scambierà due parole con Mormile. Grazie. Un grazie a Simone Solinas per questa gentile presentazione, un grazie a tutti voi per essere presenti e un grazie, lo vorrei subito esprimere, al nostro direttore artistico Gaston Fornefaccio perché ha avuto così direi l'iniziativa, la prospettiva culturale molto attinente ai tempi di avvicinare questo teatro finalmente all'opera barocca. Questo è il quarto anno che il Regio si occupa di opera barocca con un allestimento nuovo nel caso di questo Orfeo. Gli anni precedenti lo sappiamo che questo progetto di opera barocca era iniziato con il Giulio Cesare di Endel, proseguito con il barocco inglese e con il di Don Enea. L'anno scorso un grande periodo dedicato a Vivaldi con l'allestimento dell'incoronazione di Dario e diversi convegni che hanno finalmente illuminato tutta l'importanza che Torino ha per Vivaldi e per i manoscritti contenuti nella nostra biblioteca universitaria a Torino. E ora giungiamo a questo Orfeo Monteverdiano. È curioso, all'inizio, prima di essere qui fra voi, si chiacchierava amabilmente con amici e si diceva ma l'Orfeo è un'opera barocca o è un'opera che fa ancora parte del Rinascimento? E' sempre bello chiacchierare con amici che spesso ne sanno più di chi sta parlando per formulare meglio le idee ma anche per convincersi su ciò che si sta per dire. Beh, secondo me assolutamente Orfeo è un'opera barocca e vedremo di spiegare i motivi, non solo di dire che semplicemente un'affermazione che ci porta a dire che l'Orfeo è un'opera barocca o non lo è. Diciamo che importante è inquadrare come Monteverdi si è inserito all'interno della storia della musica, della storia del melodramma nello specifico e soprattutto di vedere il periodo specifico in cui lui ha iniziato a operare che era un periodo sicuramente ancora rinascimentale per quanto riguarda le scelte di come un compositore doveva condurre la propria carriera. Quindi in genere i compositori erano al soldo di principi, di sovrani e non erano assolutamente indipendenti nelle scelte formali, nelle scelte creative. E' curioso leggere un brevissimo scritto di Carlo Magni, che era un gentiluomo che agiva alla corte mantovana e che era fratello di un ambasciatore a Roma, che il 23 febbraio del 1607, esattamente il giorno prima dell'andata in scena dell'Orfeo a Mantova, scrisse. Domani sera il senerissimo principe ne fa recitare una commedia nella sala del partimento che sarà singolare, poscia che tutti gli interlocutori parleranno musicalmente dicendosi che riuscirà benissimo. Ecco, da questa corrispondenza privata si sottolinea sicuramente la singolarità dell'Orfeo, in cui si racconta una vicenda esclusivamente attraverso il canto. Per questo si è soliti dire che l'Orfeo di Monteverdi sia stata la prima vera opera della storia del melodramma. Almeno così lo è nell'immaginario collettivo. O almeno così lo è se noi vogliamo definire l'Orfeo un'opera barocca. Ma bisogna tenere presente che quando Monteverdi mise in scena il 24 febbraio del 1607 appunto al Palazzo Ducale di Mantova all'Orfeo, l'opera in musica non era assolutamente una novità assoluta. Già anni prima a Firenze si erano sperimentate delle forme di teatro interamente cantato che avevano destato una notevole ecco, un grande interesse. Per di più si aggiunga che l'Orfeo, come tutte le opere che lo precedettero, erano state rappresentate dinanzi ad un pubblico non pagante, ma di intellettuali delle corti dove il musicista di turno, come vi dicevo poc'anzi, era a servizio. Dunque opera come divertimento di corte per pochi intimi o eletti, opera non ancora come impresa commerciale, come avverrà a Venezia nel 1637, quando si aprì il primo teatro pubblico, il teatro San Cassiano, con l'Andromeda di Benedetto Ferrari, che fu il primo melodramma a cui potete assettare un pubblico, diciamo, pagante, un pubblico normale, non un pubblico di invitati o di intellettuali che assistevano appunto a queste prime rappresentazioni melodrammatiche. Detto appunto che i compositori in questo periodo agivano perché soggetti a signori di corti o a sovrani, ecco, bisogna certamente sottolineare che Monteverdi inserì la propria attività proprio in quell'epoca che vide il passaggio fra la musica rinascimentale e la musica cosiddetta barocca. E vedremo di spiegare come questo passaggio segnò non solo profondi mutamenti sul modo di comporre musica vocale, ma anche sulla maniera di essere musicisti in carriera, potremmo dire così. Si è parlato di questi grandi signori, di queste monarchie, di questi ducati, soprattutto di questo potere assoluto che si affermava alla fine del Seicento. Basti pensare che all'epoca in cui Monteverdi cominciava a scrivere sul trono, sull'impero anzi spagnolo, c'era Filippo II, in Inghilterra c'era Elisabetta I, mentre in Francia c'era il re Enrico IV che fu uno dei più grandi sovrani di Francia e che, guarda caso, è legato proprio alla nascita del melodramma a Firenze. Dopo vedremo perché. Per di più, nell'ottobre del 1571 ci fu la Battaglia di Lepanto. Battaglia di Lepanto che rappresentò una vittoria della cristianità sui musulmani e un'apertura dell'Europa verso un periodo di grande floridezza economica e di questo senso di liberazione che aprì anche i monarchi alla creazione all'interno delle loro regge di feste teatrali e di manifestazioni che in qualche modo dovevano incuriosire e destare novità nel pubblico. Fra queste manifestazioni ci fu appunto la progressiva nascita del melodramma che sappiamo bene avvenne non a Mantova con l'Orfeo ma qualche anno precedente, agli inizi del Seicento, proprio lo scoccare fra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento e come reazione, non come carattere di, come nascita del melodramma come moto creativo, ma come reazione al polifonismo che aveva predominato nella musica di quel tempo. Quindi dal punto di vista creativo potremmo dire che l'interesse rinascimentale per i sentimenti umani, che erano tipici dell'umanesimo, congiunto anche a un certo culto per l'antica Grecia, per un mito del mondo pastorale antico, questo mondo pastorale eletto direi quasi nostalgicamente ad età aurea dell'umanità, ecco tutto questo contribuì a far sì che un gruppo di intellettuali si unisse a Firenze per tentare di imitare quella che loro consideravano essere la tragedia greca, convinti che parte delle tragedie greche fossero cantate. Infatti non a caso Ottavio Rinuccini, nella prefazione del libretto dell'Euridice, scrive «E' stata opinione di molti che gli antichi greci e romani cantassero sulle scene le tragedie intere, ma si nobile maniera di recitare, nonché rinnovata, che io sappia, fin qui non era stata tentata da alcuno». Proprio perché il melodramma non era ancora nato e fu grazie alla Camerata dei Bardi, a questo gruppo di umanisti fiorentini, se ci fu un interesse, una rivoluzione contro la polifonia per la nascita del canto monodico, del canto solistico, che prese forma come forma ideale proprio della vocalità. E quindi questa Camerata dei Bardi, che nacque a Firenze, presieduta da Giovanni de Barti, Conte di Vernio, che nel suo palazzo riunì Vincenzo Galilei, che era padre del celebre Galileo Carilei, un aristocratico e compositore dilettante, che fu Pietro Strozzi, il grecista Girolamo Mei, e due compositori, Jacopo Peri e Giulio Caccini. Questo fu il gruppo di intellettuali che, riuniti sotto il nome legida della Camerata dei Bardi, creò questo nuovo melodramma, fondò questo nuovo modo di intendere, potremmo dire così, la tragedia greca, e l'opera era, come abbiamo visto, interamente cantata. C'erano dei principi base che regolavano la nascita del melodramma e che in fondo si possono estendere assolutamente anche all'Orfeo, ed erano i principi aristotelici e platonici. Platone come idea di musica che eleva gli animi. Aristotele come concetto di unità aristoteliche, che proprio nel Cinquecento venivano formalizzate, sapete le unità di tempo, luogo e azione, che furono seguite alla lettera da questi umanisti fiorentini per la creazione del melodramma. Unità di tempo, luogo e azione, ossia, per essere molto molto brevi, l'azione doveva essere unica, il tempo di azione doveva essere solitamente un'unica giornata, e il luogo doveva essere ugualmente unico, e i personaggi che agivano sulla scena dovevano per lo più raccontare le vicende accadute, più che viverle direttamente. Si creò anche uno stile vocale nuovo, che era uno stile che appunto reagendo al polifonismo metteva in prima istanza la voce, e veniva chiamato lo stile affettuoso, perché era lo stile che permetteva di esprimere gli affetti, che erano il fondamento dello stile recitativo, o dello stile rappresentativo, come meglio si vuole dire, che appunto venne adottato a Firenze dai creatori, dai primi creatori del melodramma. Quindi base dell'espressione degli affetti era l'addizione, le parole dovevano essere molto ben intese, ed ecco che i monodisti cominciarono ad affermare la supremazia della parola sulla musica contro la polifonia, perché voi sapete che nella polifonia le varie linee vocali si intrecciano fra di loro al punto da far quasi impedire la percezione del testo. E questo non era assolutamente concepibile per coloro che crearono il melodramma a Firenze nel Seicento. Prima ancora a Roma ci fu Emilio dei Cavalieri che mise in scena nel febbraio del 1600 la rappresentazione di anime corpo di Emilio dei Cavalieri, appunto. Poi a Firenze le prime opere sul libretto di Ottavio Rinuccini furono, appunto, e fu l'Euridice, il libretto di Ottavio Rinuccini e i compositori furono peri con alcuni inserti di Caccini e Caccini stesso. La prima delle due opere andò in scena a Palazzo Pitti il 6 ottobre del 1600 e il 20 dicembre del 1600 invece quella di Caccini. Ecco, c'è una cosa importante da sottolineare che queste opere nacquero per celebrare un grande evento che era il matrimonio fra Enrico IV di Francia e Maria de' Medici. Il secondo matrimonio in realtà di Enrico IV che Enrico IV, detto il grande veramente uno dei più grandi sovrani di Francia ha passato alla storia per essere il sovrano che disse Parigi val bene una messa perché fu pronto tranquillamente a convertirsi al cattolicesimo pur di salire al potere di avere il trono di Parigi e il potere. Ecco, il secondo matrimonio dicevamo di Enrico IV con Maria de' Medici la prima moglie fu Caterina, Margherita di Valois detta regina Margot e questo matrimonio fu importante non solo perché questi intellettuali che facevano capo alla Camerata dei Bardi si riunirono per creare qualcosa di nuovo in festeggiamento di questo matrimonio ma perché probabilmente lo stesso Monteverdi partecipò al seguito di Vincenzo Prima di Gonzaga Duca di Mantova al quale era soggetto e quindi cominciò diciamo a conoscere quelle che erano le caratteristiche di queste prime manifestazioni operistiche melodrammatiche fiorentine. La vera novità di Monteverdi come vedremo poi nel corso della nostra conversazione sarà quello di partire da queste opere che erano le Euridice di Peri e di Cacini ma di rivoluzionare il linguaggio e di renderlo il più moderno secondo quella che è la percezione attuale di cos'è un'opera lirica un'opera veramente che viene rappresentata attraverso la musica. Ovviamente qualche notazione sulla presenza di Monteverdi a Mantova dobbiamo darla Monteverdi sappiamo che nacque a Cremona visse per 76 anni morì a Venezia e a circa 22 anni fu assunto presso la corte di Vincenzo I di Gonzaga quarto duca di Mantova uno dei più grandi signori del Rinascimento un generoso mecenate un donnaiolo diciamo un bell'uomo anche possiamo magari vedere l'immagine ecco che ce lo raffigura ecco Vincenzo I di Gonzaga fu colui che assunse assunse Monteverdi in un periodo in cui Vincenzo Gonzaga dava molto molto interesse alle arti era appassionato di musica portò dalle fiandre il pittore Rubens a Mantova ebbe anche occasione di liberare Torquato Tasso che era stato imprigionato a Ferrara costruì un teatro di mille posti che poi successivamente fu distrutto durante il sacco dei Lanzichenecchi nel 1630 ma soprattutto aveva un grande interesse per la musica e nonostante le proverbiali ristrettezze economiche l'instabilità di carattere il non dare piena fiducia a Monteverdi lo assoldò al suo seguito ma date bene come suonatore cantante e compositore non come maestro di cappella come maestro di cappella ci fu ancora per un po' di tempo benedetto pallavicino solo successivamente Monteverdi divenne maestro di cappella nella Mantova del Duca la vita diciamo di Monteverdi non fu facilissima in questo in questo periodo mantovano diciamo che il grande Monteverdi esplose poi nel massimo della sua creatività a Venezia quando lasciò il Duca di Mantova ma affermare che questo periodo non sia stato importante per l'evoluzione per la nascita per l'evoluzione del melodramma e soprattutto per il modo di concepire il melodramma sarebbe una falsità certamente un ostacolo Monteverdi lo incontrò nello scontrarsi con quello che era il canonico Giovanni Maria Artusi che scrisse l'imperfezione della musica moderna Artusi era un sostenitore della polifonia e appunto accusò i primi madrigali amorosi monteverdiani di imperizia compositiva proprio perché si percepiva già nel modo di trattare la polifonia un qualcosa di diverso in Monteverdi un qualcosa di diverso che poi si esplicò a partire dal quinto libro dei madrigali Monteverdi ne ha composti nove di libri a partire dal fra il quarto e il quinto libro cominciò a modificare la sua pratica compositiva declinando veramente una teoria nella quale si rifaceva appunto alla teoria platonica della musica serva della parola dell'orazione e quindi musica atta a descrivere il sentimento l'affetto l'espressione degli affetti quindi come elemento essenziale di questa nuova nuova monodia che alimentò d'ora d'ora in poi tutta la produzione monteverdiana e ovviamente anche l'orfeo in questione si sposò a Mantua a Monteverdi con Carla Cattaneo che era una cantante con lei vita a tre figli morì a Cremona la moglie nel 1607 nel frattempo nel 1601 Monteverdi ottene finalmente la gognata la gognata in carico di maestro di cappella e la sua attività a Mantua ricopriva diversi diversi incarichi aperta braccio su vari fronti su balletti su tornei su spettacoli teatrali insomma un musicista di corte al soldo del principe locale e quindi pronto a comporre sia l'orfeo che ovviamente abbiamo che è l'opera che è argomento della nostra serata ma anche molte altre composizioni di questo periodo come il ballo dell'ingrate scritto per le nozze di Francesco Gonzaga che era figlio di Vincenzo I Gonzaga e anche l'Arianna composta in questa occasione ma perduta della quale manteniamo solo oggi il lamento di Arianna e l'opera l'opera è completamente perduta l'orfeo invece la possediamo integralmente sul libretto di Strigio e certamente fu una rivoluzione appena si ascoltò ci furono altre manifestazioni operistiche nella Mantua di quel periodo nel 1608 andò in scena la Daphne di Dagagliano ci furono anche delle incomprensioni da parte di Monteverdi con il tesoriere in quanto veniva pagato con gran ritardo insomma ci furono difficoltà che perdurarono per tutto il periodo in cui Monteverdi fu al soldo di Vincenzo Gonzaga con la morte del principe quando salì al trono il figlio Francesco Monteverdi fu licenziato aveva già messo in scena il suo orfeo lasciò Mantova andò inizialmente nella città natale a Cremona e poi fu assunto come maestro di cappella a San Marco iniziò veramente una nuova vita fra l'altro Monteverdi fu ordinato sacerdote nel 1632 e diciamo che il percorso veneziano fu meno faticoso o meno faticoso forse più vicino a quello che era lo spirito monteverdiano che era uno spirito teatrale e quindi l'agire a Venezia in una città che aveva già aperto i teatri al pubblico pagante aveva rivoluzionato il proprio modo di concepire l'opera aiutò Monteverdi proprio anche ad abbandonare opere che avevano come soggetto un mito come nel caso dell'Orfeo per avvicinare invece quelle che sono le passioni umani concrete infatti nelle opere del 1640 e 643 che sono il ritorno di Lissa in patria e l'incoronazione di Poppea non abbiamo più un mito ma la vita reale ovviamente si tratta comunque di imperatori romani di intrighi di corte ma certamente si parla di passioni umane e non più di riferimenti mitologici come nel caso dell'Orfeo perché venendo all'argomento dell'opera in questione Monteverdi scelse il mito di Orfeo per questa sua prima opera e soprattutto perché una tipologia di opera come quella legata all'Orfeo che è una favola pastorale proprio perché nelle prime rappresentazioni melodrammatiche la favola pastorale era proprio espressione di questa nostalgia rinascimentale verso un'età aurea della mitologia greca l'Arcadia una terra idealizzata dove gli uomini potevano vivere in perfetta armonia con la natura trame amorose dove c'erano dei riverberi sensuali dove tutto sommato però si viveva in uno stato naturale in un'ambientazione bucolica un'esistenza semplice lieta e tutti questi poemi trovavano una cornice ideale per quanto riguarda la musica di cori di danze di canzoni ad una sola voce che potevano appunto mettere in luce quelli che erano gli aspetti della monodia privilegiata da Monteverdi ovviamente tutti questi e queste favole pastorali avevano dei modelli letterali i prototipi erano l'Orfeo di Angelo Poliziano che venne rappresentato a Mantua nel 1480 la Minta del Tasso e il Pastor Fido del Guarini queste furono le favole pastorali principali che furono non solo fonte di ispirazione per Orfeo ma di tutti i compositori di quell'epoca delle prime manifestazioni melodrammatiche e poi perché il mito di Orfeo perché Orfeo era non solo un personaggio della mitologia greca ma era anche un simbolo rappresentava qualcosa era ovviamente un semidio sappiamo era un poeta cantore forse il poeta cantore più famoso vissuto prima di Omero un personaggio della mitologia greca era figlio del sovrano di Tracia e Agro e di una musa Calliope la musa della poesia lirica ricevette la cetra in dono da Apollo che era dio del sole una cetra che era uno strumento formato da sette corde che Orfeo portò a nove viene raffigurato come guscio di tartaruga o di legno e poi ovviamente le corde come vi ho detto passarono da sette a nove e i poteri che Orfeo aveva erano poteri di suonare e cantare con la propria lira e di incantare le belve di incantare tutto ciò che lo attorniava quindi un diciamo un precorritore di quello che è Tamino che suona il flauto magico o il pifferaio magico potremmo dire così se dobbiamo andare nel mondo della fiaba ma sicuramente il potere della musica era ciò che il nostro Orfeo rappresentava e ciò che fu fonte primaria di Monteverdi per lo sviluppo di quest'opera potere della musica per ammansire le fiere per calmare gli animi esacerbati degli uomini ma anche una una idealità che c'era dietro il concetto di Orfeo come ideale appollineo e dionisiaco quindi fondeva diciamo questi due ideali il personaggio di Orfeo l'appollinea bellezza della poesia e poi l'aspetto dionisiaco invece di poter comunicare di poter interagire attraverso il canto con le forze della natura quindi un personaggio mitologico e simbolico Orfeo fu anche creatore di una religione potremmo dire così l'orfismo che credeva nell'immortalità dell'anima la morte con la morte l'anima non si libera dal corpo rinasce ma per rinascere l'uomo deve sostanzialmente condurre una vita di culto e di sacrifici quindi capiamo che prima ancora che personaggio di opera lirica Orfeo era un simbolo per gli umanisti dell'epoca e per questo scorcio di storia della musica che vide il passaggio dal rinascimento all'opera barocca Orfeo fu anche partecipò anche alla grande spedizione degli Argonauti per la ricerca del Vellodoro spedizione capitanata da da Giasone terminata questo viaggio con gli Argonauti tornò in traccia e qui ci avviciniamo alla trama dell'Orfeo tornato in traccia in questa terra ideale arcadica serena sposò una driade che era una ninfa degli alberi dei boschi che era appunto Euridice il problema che questa ultima mentre fuggiva dalle mire del pastore Aristeo fu morsa da un serpente e morì ovviamente disperato inconsolabile Orfeo affronta come ben sappiamo gli inferi scende nell'ade accompagnato dalla speranza commuove il traghettatore Caronte e convince Proserpina a convincere a sua volta Platone a ridargli indietro la sua sposa l'unica condizione sappiamo bene che viene posta perché Orfeo possa riprendere la sua Euridice e riportarla sulla terra è che non volga mai il suo sguardo all'amata sulla via del ritorno ovviamente lo sappiamo bene Orfeo non risponde a questo giuramento fatto si volge verso l'amata e in un ultimo sguardo la condanna a morte definitiva la perde per sempre a questi punti il mito di Orfeo secondo quella che la mitologia e poi come Monteverdi la tratta cambia il mito termina con l'uccisione del poeta cantore da parte delle menadi da parte delle baccanti che sono offese dalla sua crescente misoginia dal fatto che avendo perso Euridice Orfeo maledice l'amore maledice il suo canto maledice tutto ciò che è artistico e tutto ciò che rappresentava il suo io e quindi viene sostanzialmente punito e il suo corpo viene smembrato le muse raccolgono i suoi frammenti li seppelliscono non la testa che continua a cantare staccata dal corpo una visione un po' macabra galleggia nelle acque dell'erebo viene ripescata in alcune altre visioni del mito la testa di Orfeo viene consegnata alle baccanti come trofeo la lira viene portata nell'isola di Lesbo e sostanzialmente questa è la fine secondo il mito secondo altre sfumature di questo racconto gli astronomi ritengono che la lira di Orfeo sia stata trasformata in costellazione da Zeus per intercessione di Apollo e quindi ci avviciniamo a quella che è la beatificazione di Orfeo secondo quello che è il modello poi letterario seguito da Orfeo per il libretto da Monteverdi per il libretto della sua opera tutte le fonti letterarie dell'Orfeo affondano le radici nella letteratura sia greca che romana ma è curioso dire che per quanto si parta addirittura dalla poetica corale del VI secolo a.C. quindi Vico di Reggio quindi di Esquilo con le Bassare di Euripide con l'Iffigenia in Aulide con le Baccanti in realtà il mito di Orfeo ha attraversato tutte le epoche fino a raggiungere il Novecento perché di Orfeo se ne sono occupati anche scrittori del Novecento come Rainer Maria Rilke come Cesare Pazese come Jean Cotto che addirittura nella trilogia teatral-cinematografica ha dedicato a Orfeo delle opere importanti e addirittura Alda Merini che nel suo primo libro di poesia intitolato La presenza di Orfeo si occupa del mitico cantore quindi il mito veramente di Orfeo ha attraversato la letteratura ma anche l'arte ecco potremmo dire che si dovrebbe passare quasi una conferenza intera a vedere come gli artisti hanno tratteggiato la figura e il mito di Orfeo io ho preparato alcune immagini che hanno che attraversano veramente il tempo dall'epoca romana fino al Novecento per vedere appunto come gli artisti è una scelta ovviamente molto rapida si sono occupati di Orfeo del suo mito e di tutto ciò che abbiamo detto fino adesso come evoluzione del racconto e come interpretazione ovviamente nell'arte tardo-antica Orfeo veniva raffigurato come uomo che o semidio meglio ancora che amansisce le fiere e lo vediamo nella prima immagine che vi ho preparato successivamente ci sono ovviamente anche a Mantua nella Camera degli Sposi diverse fornelle in cui il mito di Orfeo è tratteggiato ne vediamo una delle molte ci sono disegni di Leonardo ci sono diverse statue anche la statua del Francavilla vediamo la statua del Canova che raffigura da una parte Euredice e dall'altra Orfeo proseguendo nel tempo Rodin nel 500 Tiziano Rubens ancora che abbiamo citato essere un pittore molto vicino alla corte dei Gonzaga ecco qui diciamo che la simbologia è chiara Orfeo con la sua lira al seguito Euredice e Proserpina che tenta di convincere Plutone di riconsegnare Euredice a Orfeo che come vedete Euredice sta camminando alle spalle di Orfeo perché ha la promessa Orfeo di non girarci per vedere l'amata proseguendo ancora nelle immagini e arrivando al 600 Poussin questa è un'immagine molto utilizzata anche in molte copertine di incisioni discografiche di Orfeo vedete Orfeo immerso nella latura in questa in questa arcadia molto serena che era tipica appunto delle favole pastorali di epoca greca proseguendo abbiamo nell'800 Corot Morot ecco Morot questa è un'immagine che ritrae quello che vi dicevo prima cioè la testa mozza di Orfeo appoggiata sulla sua lira della Croix Waterhouse quindi siamo ai pre-Raffaeliti vedete la testa di Orfeo che galleggia che continua a cantare depositata appoggiata sulla sua lira qui siamo già al pre-Raffaeliti un'immagine piccola che ci ricorda ancora il 900 con un immagine dello Spadini ecco veramente piccole 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 scelte di una letteratura pittorica infinita veramente che dimostra come il mito di Orfeo abbia retto il trascorrere del tempo non parliamo poi della musica ovviamente nell'epoca barocca Stefano Landi Luigi Rossi Lullì stesso per entrare nell'ambito della tragedia di Lyric francese Ain con l'anima del filosofo ossia Orfeo Ridice fino a arrivare ovviamente a Gluck e all'opera della riforma con l'Orfeo Ridice sia nella versione riformata italiana che anche in quella francese che in questi giorni possiamo ascoltare alla scala e si arriva fino all'800 con l'Orfeo all'inferno di Offenbach per lambire l'operetta quindi un mito che veramente ha interessato nel corso di tutte le epoche i compositori il merito di Monteverdi fu di essere il primo il primo a occuparsi realmente di Orfeo Ridice non come mito perché nel mito il mito è trattato anche nelle Euridice di Caccini e di Peri ma di trattare Orfeo come personaggio e il fatto e il fatto di trattare Orfeo come personaggio ci fa capire come veramente la cerniera fra musica rinascimentale e barocca fa pendere l'ago della bilancia di un'opera come questa verso decisamente lo stile barocco perché l'interesse per il personaggio era un interesse sicuramente umanistico ma era un interesse sul personaggio che diventa autentico protagonista e esce dalla dimensione corale che aveva invece caratterizzato le prime manifestazioni melodrammatiche e poi anche lo stesso libretto di Strigio che fu un ambasciatore di Vincenzo Gonzaga e che fu appunto colui che stese il libretto dell'Orfeo era un libretto che aveva delle caratteristiche decisamente vicine al melodramma come viene comunemente inteso le fonti di questo libretto sono sostanzialmente tre sono la citata favola di Orfeo di Angelo Poliziano le georgiche e l'eneide di Virgilio e le metamorfosi di Ovidio però in tutti questi modelli che vi ho citato il finale è tragico cioè finisce con lo sbembramento del corpo di Orfeo e non con la beatificazione del cantore in cielo grazie all'intercessione di Apollo Veniamo alla prima rappresentazione di Orfeo a Mantova e alla fortuna che quest'opera ha avuto fin dalla prima rappresentazione che è avvenuta il 24 di febbraio nel del 1607 al Palazzo Ducale l'abbiamo detto a Mantova ma non nel teatro di corte che vi ho citato creato dal dal Duca teatro che era molto spazioso ma in una dimensione più raccolta che era una dimensione decisamente di corte era la sala del partimento probabilmente l'odierna galleria degli specchi della della galleria dei fiumi o nella galleria dei fiumi uno di questi due ambiti del Palazzo Ducale di Mantova dopo la prima rappresentazione del 24 febbraio il primo marzo ci fu una seconda esecuzione e in questa seconda esecuzione venne anche data alla stampa il libretto quindi capiamo subito ma l'abbiamo già ricordato che l'Orfeo fu concepito come intrattenimento per un divertimento privato di elite un intrattenimento di corte l'Accademia degli Invaghiti lo sappiamo che assai simile all'Accademia Fiorentina che abbiamo citato si strinse intorno al librettista Strigio e affidò a Monteverdi la composizione della musica dopo il successo delle prime rappresentazioni veramente l'Orfeo può considerarsi la prima storia la prima grande opera della storia del melodramma perché ha avuto un certo seguito anche in Europa innanzitutto Monteverdi ne curò due partiture autografe la prima condedica a Francesco Gonzaga nel 1609 la seconda quando non era più al soldo del principe ma era già a Venezia nel 1615 questa volta senza dedica perché in questo caso il compositore non era più tenuto a farlo in quanto era diventato compositore indipendente e agiva ormai già nell'orbita veneziana la partitura la partitura ebbe poi vi dicevo un certo interesse limitatamente al al 600 Simone Solinas ha ricordato che fu eseguita anche a Torino nel 1610 a Innsbruck nel 1614 si contano sporadiche esecuzioni nel 1646 a Genova e uno sfarzoso allestimento probabilmente in lingua francese nel 1647 a Louvre di Parigi l'opera viene menzionata da Charles Burney poi sparì nel corso dell'Ottocento dalle scene e venne di nuovo oggetto di studio da parte di Robert Heitner a Berlino nel 1881 questa può considerarsi la prima trascrizione moderna dell'Orfeo Monteverdiano l'interesse però bisogna dire che nel corso dell'Ottocento era principalmente accademico infatti nel corso poi anche del Novecento quando si cominciò a reinteressarsi all'Orfeo ci furono delle rappresentazioni sperimentali ma solo in conservatori a Parigi e a Milano la prima rappresentazione in tempi moderni nel Novecento invece risale ad un'esecuzione veneziana che è del 6 aprile del 1910 diciamo da allora Orfeo progressivamente è rientrato nel repertorio ma si badi è rientrato nel repertorio ma non in versione monteverdiana autentica cioè c'era un interesse nel Novecento nei confronti di Monteverdi per rienterpretare il suo linguaggio rienterpretarlo in chiave moderna non c'era assolutamente ancora la ricerca filologica che è tipica delle esecuzioni con strumenti originali la ricerca quindi del suono antico la riscoperta di quella che era la la sonorità originaria delle esecuzioni monteverdiane del Seicento ma c'era un interesse da parte dei compositori del Novecento di trascrivere la la musica monteverdiana in a proprio piacimento quindi ovviamente Orfe Respighi Indemit moderna forse Gianfrancesco Malipiero nel 1930 si rivela il compositore novecentesco più fedele al testo originale monteverdiano ma certamente si tratta non di operazioni filologiche come invece furono fatte in anni più recenti dai grandi esperti di barocco come Lepard Nicolás Arnoncour che fu fra i primi Roger Norrington fino a Rinaldo Alessandrini che possiamo definire oggi il vate monteverdiano delle esecuzioni affidate a strumenti originali e con sonorità antiche curioso essendo un'opera un'opera ancora appartenente a questa a questa cerchia di composizioni che vedevano il passaggio dalla musica rinascimentale a quella barocca curioso come le notazioni in partitura da parte di Monteverdi siano molto precise e dettagliate soprattutto nell'elencazione degli strumenti tutti gli strumenti che compongono l'orchestra e che sono tanti per l'epoca sono circa 40 40 strumenti e addirittura alcuni studiosi come Arnoncour affermano che ai tempi di Monteverdi probabilmente gli strumenti erano addirittura superiori al numero degli spettatori in sala perché finché finché l'opera non cominciò a essere eseguita nei grandi teatri ovviamente ma essendo concepita solo come intrattenimento di corte è chiaro che 40 strumenti erano già moltissimi e l'orchestra Monteverdiana per Orfeo è divisa in tre grandi sezioni gli archi gli ottoni e il basso continuo abbiamo 10 violini due contrabassi due violini la sezione degli ottoni è formata da quattro tromboni tre trombe due cornetti il basso continuo che può ovviamente variare a seconda delle ricerche delle scelte filologiche degli interpreti due clavicembali un'arpa due o tre chitarroni due organi due violi da galma e un regale che è un organo a registro unico basso Monteverdi utilizza gli archi soprattutto nel primo secondo e quinto atto che sono gli atti di ambientazione pastorale e utilizza invece nel terzo e nel quarto atto che sono gli atti ambientati nell'oltretomba in questo atto usa invece gli strumenti come appunto gli ottoni quindi cornetti tromboni e regali altra notizia che ci rifà alla prima esecuzione dell'opera nel 1607 è l'assegnazione dei ruoli in questo caso i ruoli dei cantanti sono indicati nel libretto in maniera decisamente più approssimativa sappiamo che il primo interprete del ruolo di Orfeo fu Alessandro Rasi che fra l'altro era un cantante al soldo dei Granducchi di Toscana che fu invitato a Mantova per interpretare la parte di Orfeo dal Duca di Mantova appunto per questa prima assoluta di Orfeo Alessandro Rasi era un tenore oggi lo definiremmo tenore probabilmente tenore a tutti gli effetti non lo era all'epoca la voce di tenore non era ancora classificata come tale probabilmente era un baritono chiaro ecco un baritono che aveva molta flessibilità vocale virtuosisticamente agguerrito poi fra poco vedremo perché certamente era quello che probabilmente nell'ottocento viene definito tenore baritonale un'emissione piuttosto chiara anche molto espansa nei centri quindi un baritono tenore gli altri interpreti non sono indicati nel libretto addirittura la messaggera che ha un ruolo così importante nel racconto della morte di Euridice non viene indicata in libretto e in partitura ma sappiamo che il castrato Giovanni Guadalberto Magli sostiene la parte del prologo quindi la musica nel prologo proserpina nell'oltretomba e alcuni sostengono anche la speranza e la messaggera ma non ci è dato saperlo per quanto riguarda poi il finale emerge emerge il problema che vi ho già citato la favola di Orfeo di Poliziano emerge con lo strazio del corpo di Orfeo invece nelle rappresentazioni teatrali sia nel libretto ma anche nelle partiture autografie di Monteverdi c'è il finale lieto finale lieto con la beatificazione di Orfeo ad opera di Apollo che ascolta i suoi lamenti lo salva e diciamo ci fornisce questa visione quasi più cattolica e beatificatoria dell'immagine del mito a differenza invece di come viene trattato dai dai grecisti un finale quindi moraleggiante cattolico ma anche forse più spettacolare perché badiamo bene la prima esecuzione di Orfeo fu data appunto in queste stanze limitate e piccole probabilmente non c'era la possibilità pratica di costruire una grande scenografia barocca quando l'opera fu ripresa alcuni giorni dopo e venne rappresentata nel teatro invece si adottò questo finale lieto quindi con l'intervento di Apollo che scende dal cielo dio del sole che scende dal cielo prende con sé Orfeo e lo porta con sé nei cieli a mirare finalmente lo sguardo della perduta Euridice la struttura la struttura dell'opera che è in cinque atti in cinque atti però in realtà diviso diviso in tre ogni atto è preceduto da una sinfonia strumentale introduttiva da un commento corale in prossimità del finale d'atto e ovviamente secondo le unità aristoteliche è costruito su un'unica azione principale la struttura dell'opera è la seguente abbiamo la toccata iniziale che ascolteremo con cinque trombe un richiamo ai poteri della musica praticamente una sorta di squillo non dissimile a quello che può essere non so il richiamo delle campane che richiamano i fedeli alla messa questa toccata di grande effetto ovviamente celeberrima e poi abbiamo il famoso ritornello allegorico che viene riproposto per ben cinque volte nel prologo affidato alla voce della musica e questo questo ritornello ovviamente ha la caratteristica simbolica di rappresentare il potere rasserenante dei suoni e del canto di orfeo quindi viene ripetuto vi ho detto cinque volte nell'introduzione nel prologo si passa poi al primo atto che è un atto pastorale molto gioioso molto danzante in cui si celebrano le nozze di orfeo anzi orfeo annuncia le proprie nozze con euridice un atto molto pastorale con diversi diversi canti una sinfonia che introduce al secondo atto notare bene che il matrimonio fra orfeo e oridice avviene fuori scena c'è il ritorno poi di orfeo in scena nel secondo atto dopo le nozze e il racconto della morte di oridice attraverso la messaggera che diciamo rompe di netto questo clima pastorale gioioso che aveva caratterizzato fino a qui l'opera e ci racconta in scena come è accaduta la morte di oridice per opera di questo serpe che appunto la sventurata e la condannata a morte i lamenti di orfeo ci accompagnano sul finire del secondo atto alla decisione dell'eroe stesso di andare a riprendere la propria amata nell'oltretomba e nel passaggio fra il secondo e il terzo atto ritorna questo ritornello che appunto sta a simboleggiare la speranza del potere della musica che accompagna sempre il nostro eroe non lo abbandona mai e il ritornello ci sarà ancora ad apertura del quinto atto quando orfeo tornerà nei campi di traccia lamentandosi per aver perso definitivamente la propria euridice gli atti infernali sono il terzo e il quarto atto il terzo atto abbiamo orfeo che si affaccia agli inferi accompagnato dalla speranza lasciate ogni speranza a voi che entrate orfeo abbandonato all'ingresso dell'inferno dalla speranza ovviamente l'incontro con caronte che è il traghettatore delle anime infernali l'aria famosissima di orfeo possente spirto l'intervento di proserpina che convince plutone ad affidare oridice a orfeo dopo aver ascoltato i suoi canti strazianti le sue implorazioni implorazioni che vadiamo bene convincono a sei poco caronte che invece di essere ammaliato dalla sua musica si addormenta dinanzi al suo canto e questo nell'insieme la struttura dell'opera il primo e il secondo atto vi dicevo pastorali il terzo e il quarto siamo negli inferi mentre si ritorna nei campi di traccia nell'ultimo atto poi con la beatificazione di orfeo quindi gli atti sono sempre collegati da questi elementi formali paralleli diciamo che monteverti usa per donare attraverso la musica un significato sempre simbolico di alcuni movimenti e ritornelli strumentali vi ho citato la toccata iniziale diventata celeberrima con questo utilizzo di trombe noi la ascoltiamo ora ho scelto per gli ascolti di questa sera e anche la visione di quello che vedremo anche poi nell'ascolto dei brani successivi di un allestimento molto tradizionale molto barocco non un allestimento da teatro di regia ma un allestimento molto chiaro che ci fa capire in tutto e per tutto quello che doveva essere uno spettacolo ai tempi di Monteverdi nelle corti e nei teatri barocchi di quel periodo non a caso l'orchestra non suona in buca il direttore stesso è vestito in abiti seicenteschi insomma si tenta un po' di ricreare quello che era il clima forse delle esecuzioni di quel periodo quindi un allestimento potremmo dire oggi filologico affidato anche a un direttore come Iordi Saval che ha diretto diverse volte in teatro e anche in disco quest'opera ci introduciamo però già al secondo ascolto per questo ho scelto dei brani che possano mettervi in testa nella memoria quelli che sono i temi principali dell'Orfeo ovviamente questa toccata è celeberrima quindi non potevamo non ascoltarla l'inizio dell'opera che ci introduce al prologo allegorico della musica ci presenta quello che è il ritornello che vi ho citato prima che è appunto un ritornello simbolico che rappresenta appunto come la musica sia sempre dalla parte di Orfeo sia nei momenti lieti come nei momenti tragici che lo portano a scendere negli inferi per andare a ripescare nell'oltretomba la sua amata questo ritornello viene appunto eseguito per ben cinque volte come jingle nel prologo affidato alla musica e poi nel passaggio degli atti ascoltiamolo perché quando sentirete l'opera teatro sarà un motivo che facilmente vi resterà in memoria ecco entriamo in medias res per per capire comprendere insieme perché possiamo definire veramente Orfeo un'opera barocca e non un'opera rinascimentale le caratteristiche ce le spiega la musica innanzitutto avete sentito già l'utilizzo di questo recitar cantanto ricco di fioriture e le caratteristiche musicali di Orfeo ci riportano ad un modo di concepire la musica che è assolutamente rivoluzionato da Monteverdi tutta la scrittura delle sue composizioni ovviamente era stata fino a quel tempo madrigalistica ma un utilizzo del madrigale amoroso secondo quelle che erano le concezioni appunto abbiamo detto della seconda pratica quindi le parti del libretto ad esempio utilizzate sotto forma strofica nell'Orfeo di Monteverdi sono brani strofici a forma a forma chiusa con un carattere di grande cantabilità cosa che non avevano sicuramente le prime manifestazioni delle melodrammatiche fiorentine quindi quando ci sono danzi core preghiere canti tutto questo viene attraverso l'utilizzo di forme strofiche il resto tutto il resto sostanzialmente della struttura dell'Orfeo fa l'utilizzo di uno stile di recitar cantando che però è uno stile declinato veramente manipolato potremmo dire così quasi da Monteverdi così da perdere completamente quella che era la rigidità della scuola fiorentina quindi cosa faceva Monteverdi rompeva sostanzialmente le regole musicali per una reinvenzione del linguaggio musicale determinato dalla necessità che lui riteneva come essenziale nell'esprimere gli affetti del testo già nel nel quinto libro dei madrigali Monteverdi aveva dato all'avvio all'enorme rivoluzione che oggi viene sintetizzata con la frase la musica sia serva dell'orazione e non padrona quindi Monteverdi cosa aveva fatto aveva maturato una sorta di ribaltamento assoluto delle necessità di una composizione musicale il testo con tutte le sue conseguenze emotive avrebbe dovuto da quel momento in poi guidare la composizione musicale quindi la musica non avrebbe più potuto procedere per un cammino in contrasto o addirittura in mancanza di associazione col senso emotivo della parola e del testo e lo avrebbe dovuto fare ovviamente con una arditezza armonica molto attenta ai valori espressivi del testo e ad una declamazione che nell'Orfeo di Monteverdi diviene declamazione altamente drammatica cosa raggiunge Monteverdi nella sua autentica rivoluzione nella creazione del melodramma e nel far sì che oggi noi diciamo che l'Orfeo sia veramente la prima opera della storia dell'opera e la prima opera barocca in senso assoluto e che si è dinanzi ad una sintesi assolutamente miracolosa perfetta fra azione drammatica e invenzione musicale dove la narrazione dell'evento che appunto è simile a un parlato perché si tratta comunque di recitare cantanto si intensifica proprio attraverso l'utilizzo dell'espressione della musica espressione della musica che utilizza anche dissonanze cambi di tonalità e perché no anche il virtuosismo quindi la parola ha il compito di esprimere i concetti dell'animo gli affetti e la musica platonicamente ha il compito di elevarla guardate bene siamo vicini al concetto e per questo oggi si può considerare il teatro di Monteverdi un teatro modernissimo siamo vicini al concetto di parola scenica verdiana in quanto lo stesso Verdi era quando parlava di parola scenica parlava di un teatro musicale capace di dipingere veramente la scena drammatica e di donare alla scena drammatica quella patina tragica e drammatica che probabilmente le prime opere fiorentine non avevano anzi non probabilmente perché basta ascoltarle e ci si rende conto subito della rigidezza accademica e ancora molto sperimentale di queste prime manifestazioni melodrammatiche l'Orfeo invece è un capolavoro in senso assoluto proprio perché all'interno di questo recitar cantando così vario così arioso abbiamo anche questa pagina questa pagina molto tragica che caratterizza molti numeri dell'opera fra i quali ovviamente non possiamo non citare e non ascoltare l'intervento della messaggera prima dell'intervento della messaggera però vorrei proporvi anche il canto di Orfeo vi ricordo a Boschi Ombrosi che è un canto molto strofico molto pastorale molto orecchiabile che a un certo punto si interrompe con l'ingresso con questa cesura molto drammatica che avviene anche attraverso l'utilizzo di dissonanze l'ingresso in scena della messaggera che ci racconta come Euridice è morta e a seguito di questo racconto ne segue la disperazione di Orfeo ma è molto interessante notare come questa varietà musicale venga utilizzata da Monteverdi per esprimere prima la gioia del mondo pastorale affidata al mitico cantore che canta queste strofe e poi questo tragico ingresso veramente da tragedia greca della messaggera che ci racconta in presa diretta ciò che è avvenuto alla sventurata Euridice quindi ascoltiamo di seguito questi due momenti che ci fanno veramente comprendere come Monteverdi avesse scritto in questo Orfeo qualcosa di veramente nuovo e rivoluzionario Se sfumiamo l'ascolto e se magari rimandiamo quello successivo che ci avrebbe permesso di comprendere veramente come la vocalità affidata al personaggio di Orfeo si evolve e si barocchizza perché nell'aria nella grande aria strofica possente spirto in cui il cantore si rivolge a Caronte con queste terzine accompagnate da diversi strumenti dell'orchestra dalle viole dai cornetti dall'arpa doppia dai violini da un violoncello sono intervallate da una scrittura altamente virtuosistica che non poteva certamente che caratterizzare lo sviluppo di un melodramma che già diventava barocco in tutti quelli che sono i suoi elementi formali e vocalistici ma per questo vorrei affrontare l'argomento anche con un gradito ospite che è già stato annunciato che è il maestro Alessio Pizzec che inviterei qui fra noi e Alessio Pizzec è l'autore firma regia allestimento di questo Orfeo che arriva a Torino ciao Alessio grazie veramente buonasera veramente un grazie di essere qui fra noi non solo perché Alessio Pizzec è un regista che ama l'opera barocca e la sa mettere in scena ma soprattutto perché la ama moltissimo e io vorrei parlare non vorrei chiederti troppo su questo allestimento perché poi ovviamente i nostri ascoltatori verranno a vederlo ma qualcosa verrà fuori dello spirito soprattutto che tu hai voluto mettere all'interno di questo spettacolo che hai preparato con grande cura ne abbiamo parlato molto anche nei giorni passati ma soprattutto vorrei farti una domanda dal momento che c'è questo allora ma Orfeo è un'opera barocca o è un'opera ancora del rinascimento secondo te secondo il tuo sentire Orfeo è un'opera rinascimentale nel senso che è un'opera che pone al centro una riflessione sull'uomo quindi segna una cultura nuova e una di nuovo dopo la tragedia antica del quinto secolo avanti Cristo che aveva messo al centro l'essere umano e tutti quelli che erano le grandi domande mitiche dell'uomo l'amore la morte il rapporto con il destino ecco questi temi che erano la base della tragedia antica vengono rimessi al centro di un pensiero di un nuovo umanesimo che rimette al centro l'uomo e le sue domande quindi in questo senso credo che sia un'opera che mette al centro un pensiero davvero di rinascimento nel senso di rinascita di tutte quelle che sono le domande che guidano l'uomo e Orfeo diventa in qualche modo la metafora di questo straordinario uomo che si pone il problema del proprio rapporto con la vita con la morte con l'amore col destino con le illusioni con la caducità anche delle esperienze della vita ecco ma questo umanesimo così rinascimentale si ripercuote poi su ciò che avviene sulla scena e su come Monteverdi poi tratta il dettato musicale oppure Monteverdi va avanti io ho detto il contrario e poi direi che in questo senso si parte da un'opera evidentemente rinascimentale che cerca di andare evidentemente oltre siamo come tutte le è complesso fare delle categorie perché siamo di fronte a un esperimento cioè siamo di fronte a qualcosa che tenta di sdoganare un tempo e di andare di prefigurare un futuro di immaginare nuove prospettive ma in questo senso la sperimentazione a livello della parola a livello della densità della parola a livello della densità proprio linguistica anche musicale è talmente potente talmente grande quello che si muove dentro che si sente che in nuce c'era evidentemente la necessità di elaborare nuove forme e questa elaborazione questa ricerca di nuove forme fa sì che Orfeo sia in qualche modo un prodotto ibrido sia un'esperienza artistica ibrida che parte da un tempo e ci manda verso un altro e addirittura ci fa sentire che lì dentro ci sarà ciò che avverrà successivamente è impressionante secondo te quali sono gli elementi strutturali e teatrali di quest'opera tu hai fatto sei un regista di grande esperienza teatrale quali sono gli elementi proprio strutturali più interessanti per un regista abituato a far teatro barocco e quindi un teatro barocco che si è spinto anche decisamente su un barocco decisamente più belcantistico meno arcaico tra virgolette come quello dell'Orfeo che cosa ci può dire ancora oggi un'opera come questa ma allora intanto non c'è una parola che non sia giusta a volte quando si legge un testo e anche nel caso di questi materiali a volte ci si domanda perché c'è questa parola perché c'è questa frase perché è scritta così è tutto perfetto è tutto talmente perfetto che in qualche modo senti che là dentro c'è qualcosa di potente emoziona moltissimo farlo Orfeo credo che si senta dalla mia voce nel senso che mentre lo fai ti pone delle domande enormi faccio un esempio la scena che avete visto è precisa è perfetta nell'acme nel punto più alto della gioia nel punto più alto in cui la festa sembra compiuta nel momento in cui drammaturgicamente Orfeo finalmente riconosce la propria gioia terrena quindi il fatto di in qualche modo di essere riuscito a trovare un completamento in quel momento con una precisione millimetrica strigio e quindi poi Monteverdi fanno entrare questo ai che oggi se noi pensiamo un ai oggi ci viene in mente il pizzicotto ma la fisicità di questa parola il corpo che sta dentro la parola la parola restituisce un corpo la parola è corpo e il corpo si fa parola in qualche modo quel ai più di qualsiasi altra parola esprime il dolore inesprimibile Euridice non si dice Euridice è morta ma la messaggera arriva con un escalation progressiva a dire questa parola allora vedete che questa è una drammaturgia sottile la drammaturgia in cui si arriva a toccare la verità pezzo dopo pezzo istante dopo istante in un tempo che è il tempo della durata cioè noi non siamo di fronte a un teatro che vuole riproporre un tempo del presente ma che vuole immergere coloro che ascoltano in un tempo dell'anima in un tempo dell'ascolto in un tempo che è durata che dura che continua e in questo senso stanno anche le ripetizioni le ripetizioni servono a rafforzare questo durare delle cose e l'emozione quindi viene dilatata è come se andassimo da A a B ma per arrivare da A a B Monteverdi ci chiede di fare A a 1 a 2 a 3 a 4 è una musica di istanti istanti enormi e questo è modernissimo questo è modernissimo interessante questo tempo dell'anima ecco in quest'opera che tutto sommato non è ancora l'incornazione di Poppea è un'opera completamente diversa proprio perché è ancora screziata dal mito questo concentrarsi sull'anima del personaggio non ritieni che possa essere stata anche di grande ispirazione mi sembra di aver capito dalle parole per il tuo allestimento e per ciò che hai voluto creare visivamente sulla scena assolutamente abbiamo lavorato in questi giorni proprio per trovare una verità in quello che stavamo facendo in scena per comprendere che questa musica per essere vissuta ha bisogno di un ascolto di una capacità di ascoltare la nostra anima il barocco dico sempre il linguaggio barocco ma quando lo canti quando lo interpreti devi riscriverlo in qualche modo c'è il tuo vissuto in una nota io dico sempre che il pentagramma un do un mi un re un sol sono posizioni dell'anima un suono non è un suono così è un suono un do un re o un mi o un bequadro o un bemolle risuonano nella nostra anima ci creano degli ecchi dei riverberi dentro di noi ci invitano a riflettere sulla nostra esistenza ci aprono degli ascolti possibili facendo questa musica non possiamo non tener conto di questo è una musica fatta di piccoli passaggi ma che sono enormi enormi grandissimi nel piccolo c'è il grande e questo è meraviglioso in una piccolissima modulazione di un suono c'è un intero universo che si muove è una nuova forma di bellezza ci pensavo oggi aiutaci a capire qualcosa del tuo spettacolo ma soprattutto non spaventiamo il pubblico è uno spettacolo che sarà uno spettacolo non da cosiddetto teatro di regia ma uno spettacolo che penso di aver capito molto chiaro in quello che è lo sviluppo del racconto oggi c'è sempre questa grande divisione tra pubblico critica o porzioni di critica che sono a favore di un certo modo di concepire il teatro di riscrittura addirittura talvolta drammaturgica delle pièce teatrali dei libretti stessi in questo caso il libretto è hai detto tu di una perfezione assoluta e come come l'hai trattato per venire incontro alle esigenze della modernità ma per poter dirci qualcosa anche di nuovo perché avete visto che lo spettacolo che vi ho proposto era uno spettacolo assolutamente lineare barocco ad alcuni piacerà a moltissimi a moltissimo altri diranno che invece è noiosissimo e superato insomma non si riesce mai a far contenti nessuno vero Alessio quindi come ti sei comportato tu quando hai pensato a questo progetto di Orfeo mi sono comportato come cerco di comportarmi sempre cioè pensando sempre che il regista non è noi siamo sempre dei mezzi e abbiamo il grande privilegio di essere dei mezzi attraverso cui noi possiamo raccontare delle storie quindi prima di tutto è importante capire che cosa stiamo raccontando e qual è la materia che stiamo raccontando intanto siamo partiti da un'idea che era l'idea della favola ma nel senso alla pop come nelle analisi strutturali della favola che si farebbero oggi cioè la favola è un insegnamento ci insegna qualcosa la favola ci deve raccontare qualcosa quindi questo aspetto diciamo favolistico comunque di sentire che ad esempio c'era questa narrazione delle stagioni che io trovo meravigliosa nell'opera e anche lo spettacolo si parte da una primavera si arriva un'estate poi ci sono questi inferi ghiacciati che non sono caldi sono l'inverno dell'anima trascolorando da un autunno che è l'annuncio della morte quindi le stagioni mi hanno molto guidato perché sono molto presenti nell'opera si parla spesso di prati di fiori di alberi non si può non tenerne conto ma non per raccontarlo con una visione pittorica bozzettistica ma per cercare di capirne le valenze simboliche quindi credo che assisterete spero mi saprete dire a uno spettacolo che vuole in qualche modo coniugare che è un po' un mio tarlo la necessità di parlare al presente ma sempre con una profonda necessità anche di entrare dentro la materia di comprenderla di essere umili di fronte a quello che mettiamo in scena anche sempre un po' come diceva Pirandello per tradirlo perché poi la regia è sempre un tradimento mi chiedeva oggi un corista maestro è molto bello quello che stiamo facendo ma perché lei pensa l'amore tra Orfeo ridice non così felice e io gli ho detto ma questa è una mia visione chiaramente è una mia chiave di lettura per poter arrivare a raccontare questa storia ah ecco ora comprendo delle cose ma mi piace questo no? mi piace se lo spettacolo pone delle domande delle domande che gli inferi che vedrete non sono gli inferi grotteschi con le mascherine delle larve che vanno delle anime che vanno è chiaro che c'è un ripensare quando in questo periodo abbiamo parlato degli inferi ad esempio per farvi un esempio spero di non essere noioso quando ho parlato degli inferi in questo periodo ad esempio con i cantanti abbiamo lavorato molto ad esempio per farvi comprendere cos'è chi sarebbe Orfeo oggi Orfeo va negli inferi nell'orrore degli inferi pensate all'iconografia delle anime che devono essere portate attendono di passare il fiume e di andare e di andare a morire e questo continua a cantare in questo inferno riesce continuamente a cantare la sua arte riesce a vincere e a vincere Caronte a vincere questo orrore che lui vede intorno a sé bene oggi come interpreti del 2018 non possiamo pensare agli inferi come dire iconografici per farli sulla nostra pelle per interpretarli come persone del 2018 abbiamo bisogno di fare dei paragoni che ci appartengano e allora in questi giorni non mi sono per niente risparmiato a dire che esistono ancora degli inferi nel tempo anche presente che attraversiamo e quanti Orfei in questo periodo ho fatto raccontare molto ho fatto lavorare molto su questa immagine della musica che vince sul dolore e questa è la grande scoperta di quest'opera mi permetti di far ascoltare un momento di possente spirito che è questa forse è la prima grande area della storia dell'opera che è un'area fra l'altro molto complessa anche dal punto di vista vocale esiste anche una versione diciamo semplificata di quelli che sono i virtuosismi che il cantante deve fare accompagnato dallo strumento non l'ascolteremo tutto ne ascolteremo una parte ed è un'area che veramente ci fa capire come moderno sia il teatro di Monteverdi e come si è già molto avanti dal punto di vista dello sviluppo della vocalità perché siamo in pieno e assoluto bel canto tanto da far sì che si possa affermare che Orfeo forse è il primo vero personaggio autentico della storia del melodramma e ascoltiamo l'inizio della traccia tredici possente spirto ovviamente il cantore che si rivolge a Caronte possiamo sfumare sono diverse strofe come vi dicevo accompagnate a ciascuno da ciascuna da uno strumento diverso l'aria è molto semplice in apparenza però ci sono già tutti gli strumenti del bel canto c'è il trillo la nota ribattuta la gorgabarocca veramente siamo dinanzi ad una grande pagina non solo vocale ma ovviamente anche lo abbiamo sottolineato di teatro puro perché il personaggio racconta in diretta veramente diventa protagonista dell'azione scenica attraverso d'ora in poi veramente in questo atto Orfeo diventa protagonista assoluto di questa evoluzione drammatica così nuova insegnataci da Monteverdi ma il finale di questo Orfeo migliore il finale impossibile cioè il pionisiaco o quello che ovviamente eseguiamo oggi che è la colline no noi sappiamo sempre forse ne avete già parlato ma mi preme ricordare che dobbiamo mai dimenticare che la prima volta che fu fatto questo spettacolo quest'opera fu rappresentata se voi andate nel gabinetto della principessa credo si fosse chiamasse Isabella non mi ricordo è un corridoio praticamente e la nostra scenografia un po' lo richiama questo ambiente chiuso quindi è chiaro che la dimensione delle baccanti fu importante e quanto dovessero immaginare quegli spettatori perché non c'era scenografia tant'è che quando fu poi portato sul palcoscenico si inventarono il deus smachina di Apollo beh qui c'è tutto un lavoro che noi abbiamo fatto per cercare di restituire una forza questo finale intanto delle baccanti io ho mantenuto una dimensione cioè del finale delle baccanti c'è una dimensione nella partitura fisica voi vedrete non voglio svelare troppo però voi vedrete alla fine Orfeo che di fronte alla morte di Euridice sto parlando della seconda morte questo è molto interessante perché Orfeo fa esperienza prima della scomparsa e poi fa esperienza della morte che sono due esperienze vagamente differenti e la scomparsa gli viene raccontata e la scomparsa gli viene raccontata quindi lui fa esperienza della morte quando fa esperienza della morte la morte di Euridice da lui stesso causata guardandola ma con tutto quello che questo ne consegue quando lui quindi fa esperienza dell'assenza lui vedrete che comincerà in un'esperienza terribile che è proprio quella di una sorta di autoflagellazione come se lui si sentisse colpevole di quella morte che ha in qualche modo causato che è il senso simbolico delle baccanti cioè le baccanti mangiano l'eroe e divorano l'eroe perché l'eroe in qualche modo non perché semplicemente l'eroe ha detto maledette tutte le altre donne ma le baccanti sono la coscienza dell'eroe greco cioè siccome non avevano Freud i greci avevano bisogno di portare la mente del personaggio fuori e quindi avevano bisogno di inventarsi dei personaggi che rappresentassero l'inconscio le baccanti sono l'inconscio del personaggio tragico e sono le baccanti che martorizzano il personaggio tragico in questo caso noi non avendo il finale delle baccanti ho deciso di andare siccome in mezzo noi abbiamo Freud invece è successo questa piccola cosa che noi leggiamo queste storie sapendo che c'è Freud quindi chiaramente la nostra visione deve essere diversa perché noi diamo una lettura freudiana a questo racconto ed è giusto che sia così allora lì lui massacra se stesso Apollo viene e vedrete un'azione stranissima che qualcuno dirà ma che ha fatto il regista ma spero che si capirà che c'è una sua consecuzio in questa cosa fino al finale dove Apollo viene e gli dice una cosa importantissima Apollo gli dice guarda che tu hai gioito troppo adesso stai soffrendo troppo figlio mio attenzione perché nella vita la misura è fondamentale ed è interessantissimo questa cosa la capacità dell'uomo di essere dentro le sue passioni ma essere anche distante dalle proprie passioni e infatti il nostro Apollo vedrete nello spettacolo tanto siamo fra di noi quindi posso svelarlo offre una nuova cetra Apollo ridà lo strumento del quale vedrete che lui si è sottratto Orfeo violentemente perché pensava che quello strumento non è servito a niente mi ha portato negli inferi ma non mi ha fatto salvare Euridice la musica non serve a niente e invece Apollo viene torna e gli porta uno strumento che produce luce non è più la cetra ma gli dice saliamo al cielo diventa la costellazione di Orfeo diventa luce diventa stelle la musica che si fa luce la musica che illumina e dà il cammino degli uomini e diventeranno le stelle e potrete orientarvi voi esseri umani e questa è una cosa meravigliosa la scoperta quindi che la musica è quell'elemento che ci rende distanti dalle nostre passioni ce le fa comprendere ascoltandole e così è salvezza per l'uomo è orientamento nel dolore perché mai ci deve essere disperazione c'è sempre una luce c'è sempre la stella e questa trovo che sia una metafora straordinaria e infatti il finale è una grande festa sul palcoscenico vedrete ballare tutti perché la danza diventa quella catarsi in cui tutti ci sentiamo finalmente insieme grazie al grande rito della musica e dell'opera che unisce gli esseri umani e non ho chiesto a caso ad Alessio questo perché ero rimasto molto interessato dal racconto di questo finale e da cosa ne pensasse lui sull'opportunità di concludere quest'opera con un finale lieto tragico anche se sappiamo benissimo che quello tragico non lo possediamo musicalmente però per capire un attimo se la sua concezione di mito era più vicino all'originale greco o a quello rielaborato da Strigio e reso più rinascimentale barocco dall'opera di Monteverdi ecco grazie Alessio grazie a voi grazie Alessandro un grande orfeo va in scena in prima martedì 13 il regista lo abbiamo avuto ospite Alessio Pizzec grazie di cuore per essere stato fra di noi sullo spettacolo ha detto già tutto Solinas un grande cast di specialisti barocchi e quindi veramente un'occasione da non perdere sempre in questo progetto barocco al quale dobbiamo un grazie sincero al direttore artistico del Teatro Reggio Gaston Forniefaccio che è in sala fra di noi grazie ancora a tutti voi grazie a tutti